C'è una donna alla porta, entra lentamente, si toglie i guanti, apre la borsa e la vuota sul tavolo. La donna ha due centesimi dei fiammiferi e un nichelino. Lascia il nichelino sul tavolo e rimette i due centesimi dentro la borsa. Prende i guanti, sono neri, li mette dentro la stufa, poi prende un cerino e lo accende. A un tratto suona il telefono, la donna alza il ricevitore, ascolta, poi dice non ho mai avuto dei guanti neri in vita mia, riaggancia. Come continua poi? Non lo so, stavo solo facendo del cinema. La scena che vi ho raccontato è tratta dagli ultimi fuochi di Elia Kazan. Parleremo molto di cinema, ma scriveremo soprattutto tantissimo durante il corso online della scuola Holden, scrivere una sceneggiatura. Vi aspetto! Il nichelino, a cosa serviva?